Il 2024 è un anno importante perché è il terzo della consigliatura e quindi un po' si tirano i bilanci e un po' si rilanciano gli obiettivi per i quali abbiamo impostato anche il DUP, il documento unico di programmazione che per l'appunto questo coinvolge l'anno 24, l'anno 25 e l'anno 26, quindi il triennio nel quale si va a concludere la prima legislatura della Giunta Manfredi. Sono obiettivi molto ambiziosi ma necessari, noi abbiamo una città in grande movimento, con grandi opportunità, un'esplosione turistica che va salvaguardata, guidata, una situazione di emergenza però dal punto di vista sociale che dobbiamo affrontare, penso soprattutto alle case popolari che sono in condizioni di difficoltà, un intervento per il miglioramento complessivo della vita dei cittadini, penso all'igiene e alla differenziata, a raccolta differenziata dei rifiuti, penso alle strade e al manto stradale che in molti casi è sconnesso, penso al verde che rappresenta un po' quello che è il decoro urbano. Abbiamo fatto grandi interventi utilizzando le risorse del PNRR, penso soprattutto a Scampia, Taverna del Ferro, l'abbattimento delle vele e i nuovi impianti e nuove case, penso all'albergo dei poveri, penso al Marzion Gioino, cioè un intervento a tutto campo che fa sì che Napoli, uscendo dalle difficoltà che abbiamo trovato due anni fa, sia davvero quella grande città europea che merita di essere.